Siamo a Milano in occasione della presentazione della Motor Valley Fest, ma in questa manifestazione in cui si parla di motore ovviamente sono protagonisti anche i motociclisti. Raccontaci un po' quelli che saranno le novità per il tuo futuro. Ciao a tutti, è un onore essere qua e partecipare a questo bellissimo evento. Quest'anno sarà un anno impegnativo, parteciperò a tante gare. Avevo già comunque confermato da tempo la Moto E nel Mondiale e comunque parteciperò anche al CEV Moto2, sempre appoggiato al team Gresini, quindi è una bellissima opportunità e sarà importante comunque fare bene in prospettiva per tornare nel Mondiale. Mi impegnerò molto, adesso a breve partiremo con i test e ad aprile ci sarà già la prima gara, la Moto E invece partirà a maggio. Quindi niente, sono carico, concentrato e vediamo di fare bene. Quindi ci confermi che la nostra Biglia Romagna è veramente terra di motori? Eh sì, ovviamente da noi ci sono tantissime piste e si respira proprio la passione dei motori, quindi ovviamente è la prima cosa che si fa da piccoli e per me è un onore appunto poter partecipare a questi bellissimi eventi ma anche poterli vivere da dentro perché sono poi pilota.